La diocesi di Arezzo Cortone e Sansepolcro ha celebrato la giornata della parola di Dio, un lungo e intenso intervento, un lungo pomeriggio nella cattedrale di Arezzo, con tanta gente anche nonostante le condizioni meteo non proprio favorevoli. Diciamo un successo per questa iniziativa. Ma il successo è una parola che non so se si adatta alla parola di Dio, basta che sia proclamata, purché il Vangelo sia proclamato. Stasera la nota che ho notato di più è stata quella della gioia. Cioè la gente prende per buono quando gli diamo un dono di qualità come l'avvio, la struttura necessaria per interiorizzare il Vangelo. Questo è avvenuto grazie alle religiose della diocesi che si sono molto impegnate per realizzare questo inizio della parola, che poi proseguirà in vari modi. In San Michele con appuntamenti fissi, per fare in modo che chi in Arezzo vuole partecipare di persona possa farlo. Comunque Teresa Domenico coprirà questo servizio. Poi ci sono altri modi perché venga interiorizzata la parola attraverso la lezione divina, che con l'aiuto di Camaldori e anche degli strumenti informatici che ci permette di usare la conferenza episcopale italiana, la CEI, speriamo di far fare a tutta la nostra Chiesa un cammino sempre più bello, perché la vostra gioia sia piena, dice la parola di Dio, e vogliamo che tutti siano liberati dalla paura che incombe e riprendere piena fiducia in Dio. Anche la diocesi di Arezzo Cortone Sansepolcro celebra la giornata dedicata alla parola di Dio, una iniziativa importante in cattedrale. Qual è il significato di questo momento per la nostra Chiesa? Il significato è molto importante perché è il secondo anno in cui il Papa ha istituito questa Domenica della Parola, con la lettera apostolica Aperuit Illis, cioè aprilamente alle scritture. Il Papa ha voluto che in tutte le diocesi del mondo e anche nelle parrocchie si istituisse la Domenica della Parola, perché non doveva essere la parola di Dio solo riservata agli studiosi, alle persone colte, ma doveva essere patrimonio anche del popolo di Dio. Quindi una giornata in cui la parola doveva essere al centro della vita ecclesiale, ma anche delle famiglie, della propria vita personale. Quindi noi come diocesi di Arezzo abbiamo organizzato un pomeriggio, che vuole essere anche di festa, perché la parola non è una cosa molto seriosa. E allora abbiamo invitato il coro gemellato di Sant'Eusebio e di Santa Maria in Sansepolcro, che ci hanno accompagnato con dei canti biblici, tutti intercalati dalle testimonianze di vita. Testimonianze molto diverse, c'è stato uno scrittore, una coppia, una persona consacrata, un poeta, e in modi diversi ci hanno detto come loro vivono la parola di Dio, come per loro la parola di Dio è entrata nel ritmo della loro vita quotidiana. Poi abbiamo dato la parola, senz'altro, al nostro arcivescovo Fontana, che ha intronizzato la parola e ha fatto una catechesi sul Vangelo secondo Marco, il Vangelo che ci seguirà durante le domeniche di quest'anno. Ed è stata bella la catechesi del nostro arcivescovo, perché questo fa capire quanto la parola deve essere al centro della comunità ecclesiale, ed essere spezzata anche per il popolo di Dio dal nostro arcivescovo, è stato molto bello. E abbiamo concluso il tutto con la celebrazione solenne dell'Eucaristia, in cui eravamo invitati a nutrirci della parola di Dio, nutrire la nostra mente, il nostro cuore, il nostro essere, e nutrirci poi del corpo e del sangue di Gesù, in modo che alla fine potremmo essere anche trasformati in Gesù per essere noi stessi poi parola vivente nel mondo in cui viviamo. Grazie. 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 Grazie.